La parola... Non è un intervento, siccome sta andando avanti sulla discussione, poi va anche oltre le problematiche del bilancio, va benissimo, però siccome c'è una discussione improntata anche sugli emendamenti, io penso che sia a questo punto, anche forse in ritardo, è stato opportuno, chiarire se ci sono problemi tecnici riferiti alla presentazione degli emendamenti questa sera, questo bilancio, secondo regolamento, vanno presentati cinque giorni prima, quindi bisogna anche far fare queste considerazioni regissorie, non perché sono contrario, perché su alcuni adesso che interverrò ci sono degli aspetti tecnici, quindi secondo me non posso, in particolare sul primo, non voglio fare l'intervento, però siccome la discussione sta andando avanti, tenendo in considerazione anche gli emendamenti, che non mi esprimo in questo momento, favorevole o contrario, però tecnicamente possono essere presi in considerazione o meno, perché se no discutiamo tutta la serata di emendamenti che per motivi di tempo, di presentazione fuori termine, non potrebbero essere trattati e presi in considerazione, quindi anche per chi interviene, mi sembra opportuno che ci sia, si faccia chiarezza a questo punto, perché se no andiamo avanti e poi alla fine magari scopriamo che non si possono approvare, ma non per volontà politica, perché gli emendamenti sul bilancio, dottoressa Marieni, mi conforti o meno, vanno presentati cinque giorni prima, quindi secondo me fermiamoci, non so, vediamo tecnicamente se il dirigente, la dottoressa Marieni, possono esprimersi, quindi Presidente, su questo le chiedo se è opportuno, secondo me sì, se il Consiglio è reputo opportuno fare un momento di chiarezza, non lo so, grazie. Quindi la sua richiesta si sostanzia in? Cioè gli emendamenti si potrebbero presentare o non si potrebbero presentare, sono nei termini? Esatto, quindi il quesito lei lo deve porre, tra l'altro che si è già espressa inizialmente però... Allora chiedo scusa se si è espresso pubblicamente. Io non ho sentito... Scusate, ma... No, ma non è un problema, ma... Se dai, se dai, se dai pubblicamente, se non va bene. Non è un problema, se non va bene. Allora, Consigliere Ragni, le faccio riprendere l'intervento dopo questo... Dopo la risoluzione di questo caso. Allora... 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 Allora...